Grazie a tutti. Una cosa importante che è quella che abbiamo ribadito adesso nel presentare la campagna abbonamenti. Quando parte la campagna abbonamenti è come se partisse veramente la nuova stagione. Noi siamo partiti già il 2 però diciamo che con la campagna abbonamenti c'è questa sensazione di partire con il nuovo. Noi partiamo con grandissimo entusiasmo, partiamo con grande voglia e ci sentiamo di chiedere una cosa importante ai nostri tifosi che è quella della fiducia. C'è una fiducia in questo gruppo che ha grandissime motivazioni, ha grandissimo entusiasmo, ha grandissima voglia di riscattare una stagione gelulente come quella dello scorso anno. Il discorso del mister è stato un discorso molto in generale, nel senso che noi crediamo fortemente in questo gruppo. Per integrarla servirebbe una prima punta come ha chiesto lui, forte fisicamente e che sa andare anche negli spazi. Il mercato è un mercato anomalo in questo momento, è appena partito, siamo al 7 di luglio, vediamo da qua alla fine del mercato quello che succede. Quello che ci sentiamo veramente di promettere ai nostri tifosi è questo grandissimo attaccamento nei confronti della maglia, grandissimo sacrificio. Gli chiediamo veramente, e ribadisco e stresso questo concetto, fiducia in questo gruppo. Non possiamo promettere vittorie perché c'è anche l'avversario, questo non possiamo promettere. Ma promettiamo veramente grande impegno e grandissimo attaccamento. Quando noi diciamo che siamo un club anopano, un club che è vera la frase del dodicesimo uomo in campo, noi la sentiamo fortemente questa vicinanza. Senza il loro attaccamento noi è come giocare con un calciatore in meno. Ripartiamo con delle basi solide, con un gruppo fortemente motivato, con un gruppo forte. Come ti fa a riconquistare tifosi che comunque non è stato... I tifosi vanno riconquistati sul campo. Il nostro tifoso è un tifoso che quando vede che la squadra mette tutto, è un tifoso che capisce che anche se non c'è la vittoria, che la squadra ha dato il 100%. L'obiettivo principale nostro è quello di riavere 80.000 persone allo stadio. Abbiamo fatto tre anni alla grandissima, l'anno scorso un po' meno, però sono convinto che riusciremo a riportarli allo stadio. Non si sente di promettere anche che non parta nessuno dei bigli come si dice in giro? Non si fanno promesse in questo senso. Ossia a noi quello che possiamo promettere, già l'ho ribadito, e lo stresso questo concetto, è grandissimo attaccamento. Vediamo come va il mercato, vediamo quello che dice. Posso promettere che non partirà mai dei rossi. Sarebbe facilissimo, oggi come oggi, mettere sul mercato un pezzo del genere e avremo la fila. Questo fa capire l'attaccamento forte di identità della famiglia Sensi a questi colori. Grazie.